lenovo modello idea pad 114 gl 05 premendo pulsante accensione led niente schermo niente su schermo esterno andiamo a smontare anche con il pulsante di di sgancio batteria o batteria ci mosso anche dopo se si spegne il led poi si riaccende non appare nulla andiamo a rispegnere andiamo a spegnere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e tiepido vediamo quanto è la batteria 3,1 quindi la batteria ci mosse a posto andiamo a rimontare vediamo se parte aspetta una qualcosa un po più di tempo perché dopo la rimozione batteria può metterci anche 20 secondi ora ci sta mettendo un po troppo vediamo se c'è una retroilluminazione che sta mettendo un po' di tempo nero, in the backlight magari solo, magari un impressione, forse la flat forse la flat è mal messa, no però anche un pezzo si avviciniamo allora abbiamo qua questo è il cavo audio che non ci interessa particolarmente touch tastiera e basta non è ancora il dubbio sul sensore magnetico che probabilmente si trova potrebbe trovarsi qua sul sul blocco del check audio non ne sono sicuro comunque il premio dito lo stacchiamo anche questo riproviamo di nuovo senza batteria connessa lampeggia probabilmente per la mancanza della batteria niente mi sa che vuole la batteria a tutti i costi attaccati andiamo a pluggarla rialimentiamo e niente prossimo test stacchiamo il pannello interno attacchiamo la schiena esterna tutto spluggato mi raccomando fatelo sempre a batteria scollegata prima e andiamo a riflaggare la batteria niente no nulla diamo un'occhiata sotto lo shield è matuto in ordine diamo un'occhiata la veloce al 3,3 al 5 in 3,3 c'è di sicuro perchè funziona il bios super a yo andiamo a accendere per l'altra parte accesa andiamo a misurare batteria 8 volt si un volt cpi variabile può che essere niente qua no 3,3 quindi questo qua è il 5 rifatti è il 5 1,2 volt significa ddr4 ovviamente questo modulo qua ddr4 da 1,2 volt quindi le tensioni sono tutte al loro posto il super a yo è in funzione ma la macchina non è presente a schermo il prossimo step come al solito poi consideriamo questo qua è una apu tutta integrata e la flashatura bios quindi faccio ancora solo un altro tentativo di reset super a yo insistendo magari un poco di più non vorrei mai stare a flashare il bios che poi magari è veramente un frizz stiamo almeno a 20 secondi riproviamo quello al momento non la colleghiamo andiamo accendere ok vediamo se lo schermo fa qualcosa niente niente di niente e andiamo andiamo ad ampare il bios non ci più diventa tiepida quindi funziona e facciamo ancora questa prova prima di iniziare a a preoccuparci per cose più gravi quindi andiamo a togliere l'epa non mi chiedete come mai ma qua sembra solo che succedono poi magari non c'entra niente però magari sono sono sempre problemi di bios ma vediamo eh non ne ho detto ho passato le zampine andiamo a rimuovere l'epra vediamo qua andiamo a pulire un attimo le piazzole un attimo le piazzole e andiamo di da un po' diamo un'occhiata solo all'epron per vedere ho dato tanto un'epron diverso da solito si un'emex 25v64 stasref il super programmatore ancora qua flash detect detect mx25v64 73f benissimo select read ed un'epron sottotitoli Fanno allora qua abbiamo il product number il nome della scheda madre pensavo fosse questo qua f5501 ma vedo un altro f5701 sembra che siano degli identificativi di altro la stessa scheda madre qua c'è un 455 sn vedere che dobbiamo smontarla per guardare l'altro lato per vedere come il lato b e si vede benissimo c'è una schetta bella grossa se non possiamo fidarci dell'immagine qua perché questa poi tra l'altro è del gl 05 quindi andiamo a cercarla del gl 04 ecco qua gl 04 mother bot viene a vedere dietro la sigla per gl 05 e no gl 04 quindi è proprio lei idea pad 14 gl 05 81 v quindi avremmo la sigla vediamo se troviamo il dump da questo s 151 igl nel bios originale lenovo se abbiamo qualche info driver flash ok qua abbiamo un file cap che purtroppo non è un bioscompleto dai tiriamola via non perdiamo altro tempo siano qua c'è tutta la giornata andiamo a vedere dall'altro lato il nome della scheda madre però non solte le viti andiamo a aprire per liberare la cerniera e 650 g lsv tmb sopra c'è un'altra cosa ma sempre con quegli f che sono dei fusibili, on clock e le tensioni c'è un sacco di scritte comunque sicuramente questo è il nome della scheda madre non abbiamo trovato niente sembra che la scheda madre equipaggi anche il modello 11 pollici i polacchi forse ci vengono in aiuto 81v i 100 minuti di g l 05 del 81v torniamo alla pagina iniziale da quello che c'è scritto sono andato da un'occhiata con google translate dice che è un dump da un computer che è stato smontato quindi mega investimento di 2,28 euro 10 slot i polacchi e flashiamo e vediamo un po' se cambia qualcosa una mega spesata andiamo a fare una prova ecco qua l'ho a load ecco qua il mio bio super costoso ecco qua ho pagato 2,28 euro ok pagami ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua montiamo la scheda ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua sennò chiuda non cambia niente facciamo un magari un crisis recovery si è mosso il disgraziato spiazzato spostiamolo ancora un po' perché di sopra forse è un po' troppo lo spostiamo un po' più giù ok ora è bello centrato speriamo che si raffreddi un poco ok andiamo a accendere vediamo speriamo che qualcosa sia cambiato no e niente quindi non è il bios salvo che non ci mette un po' più del normale ma no ragazzi ragazzi ho dimenticato eh vabbè dai magari va eh vabbè senza schermo difficile che si accendesse non migliora non migliora vediamo di crisis recovery chiavetta nella porta usb funcione più r se non ricordo male e poi dobbiamo pluggare il connettore non mi ricordo se windows function r o function f non mi ricordo comunque la chiavetta non si sta accendendo quindi non sto leggendo niente allora andiamo a fare le migliorazioni cerchiamo i corti dubito fortemente ma si mettiamo negativo ok mettiamo la massa Sì 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 Però No 47 ohm Che follemente il tester segnala come Una bassa resistenza Però questo gestiamo perché Questo è la cpu quindi ci sta Quindi nessun corto Tensioni a posto Non è un problema di BIOS E' superaio Come fai ad essere schiattato superaio mentre una persona lo usa? Cioè mentre lo usa Mi hanno detto che praticamente hanno provato accenderlo L'hanno usato fino alla mattina Forse l'hanno acceso al pomeriggio Niente Secondo tentativo Questo è il BIOS del modello da 11 pollici Sì 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 Altro giro altro regalo questo è il BIOS del 110 C'è dell'11 pollici Non è drittissimo Andiamo così Non scappa da lì di sicuro Raffreddiamo Adesso lo terrò con una mano Un po' è proprio No No Si è acceso Retroilluminazione Retroilluminazione Piaggio tanta roba Wow E' partito E' sta bustrappando Stiamo strappando Quindi ho buttato 2 euro e 28 per un BIOS sbagliato Che non era di quello giusto Della macchina corretta Wow Adesso sicuramente comunque non saremo a posto Procediamo alla flashatura ufficiale dell'ultima versione E' fatta per il modello da 14 pollici Da 14 pollici Si parte E anche stavolta era un problema di BIOS Se non so Come mai Se mi sia possibile Che In vero senso si è spento Si è spento Potrebbe essere la batteria scarica Vabbè Andiamo innanzitutto a rimontare un po' tutto E mettiamo il dissipatore Comunque Comunque nel sito polacco I due euro e 28 Davvero un BIOS Che non era corretto Perché comunque Posso capire Posso capire Questi sono intel Quindi Posso capire Che ci sia La regione eme Che deve essere pulita E' adattata A quella Presente Nel Nuvotone In questo caso Nel superaio chip Però Proprio che non visualizzi niente In genere Potrebbe essere in errore L'intel management engine Può essere in errore Perché Però Se non mai Col BIOS Non ero proprio Corretto O era stato Dampato Dalla macchina Che non si avviava Comunque ora Flasheremo Quello originale Di questo PC Con un package ufficiale Lenovo E Speriamo che Tutte le periferiche Funzionino correttamente Visto che questo Non è Fatto per questa macchina Infatti Quando è partito Windows Ha fatto una ricerca A nuovi dispositivi Quindi C'è qualcosa di scombinato Ok Adesso così Non rischiamo che si cuaccia niente Andiamo a riaccendere tutto Riattacchiamo Alimentiamo E poi Flesciamo L'ultima versione del BIOS Rilasciata Da Lenovo Sperando che Ci risolva qualche problemino Vediamo se parte Si è acceso e spento Riacceso Adesso voglio fare il BIP E vado a preparare la chiavetta Con l'aggiornamento firma Ok Aspetta che il cliente Aveva lasciato la password Ok 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 Oggi tutto di corsa Oggi tutto di corsa Oggi tutto di corsa Dai forte 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 Dai che sono di corsa E' impazzire oggi La giornata dai nuova Tutte le periferiche sono a posto Quindi niente Adesso proviamo solo entrare Una volta nel BIOS Per la configurazione manuale Sembra proprio che i BIOS Siano uguali Stranissimo Puoi essere per carità Che giornata Che giornata Tra l'altro questo qua è un video del BIOS Per cui Vi dovrò dare un po' di precedenza Perchè ne ho due o tre Da pubblicare Di reflow Che non so neanche se pubblico a questo punto Perchè Uno è un po' più carino degli altri Ma Sono sempre con i computer la famosi Della pila che mi è arrivata Ehm Però per carità Si tratta di macchine vecchie Non è che siano proprio massime interessanti No queste qua Non sono giuste Queste no Sono più corte Sono queste qui Anche questa Non è quella corretta Ci assimiliano tanto C'è una è giusta e una è sbagliata Questa è quella giusta qua Altre persone Niente niente Oggi oggi Proprio non ci riesco a Finire qua Ok Ho dimenticato qualcosa Contreremo bene no? Per non doverlo riaprire di nuovo Video a posto Anterne a posto C'è questo filo qua che non è tanto a posto Non ci interessa e li lasciamo direttamente qua Entriamo nel BIOS Cancer Renovo F2 Funzione F2 Si perfetto Qua mancano dei dati Non ci interessa tantissimo Boot Posto Posto Tutto rimontato Facciamo ancora un'accensione Giusto per vedere che sia tutto a posto E arrivederci grazie Mega boot Super rapido Si Si È Explorer Tras A Do Rimontato Il Bis Il Millale